Finalmente si esce da gennaio per entrare nel mese di febbraio, tieniti forte perché i lanci di sneakers sono assolutamente pazzeschi e soprattutto controlla il tuo portafoglio perché molto probabilmente questo mese si svuoterà. Poi ovviamente sta te magari se vuoi rivendere le scarpe per guadagnarci oppure se sei un appassionato e te le vuoi mettere ai piedi. In qualsiasi caso sono qua per aiutarti e dirti le migliori 5 scarpe che usciranno nel corso delle prossime 4 settimane. Metti subito un like al video, iscriviti per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube che noi adesso iniziamo subito. Aperta e chiusa parentesi noi adesso parleremo solamente dei lanci ufficiali quindi non di tutti i restock che ci sono di scarpe interessanti come possono essere delle campus oppure qualsiasi altro modello che abbia del margine di profitto semplicemente se sei un reseller e vuoi guadagnarci. Allora per tutti quelli io ho una community dove aiuto le persone a riuscire a comprarle e puoi trovare il link in descrizione oppure nella scheda in alto a destra. Detto questo basta iniziamo. Al numero 5 ci dobbiamo mettere due Kobe ovvero le Purple e le Emerald. Dopo le Reverse Grinch sembra che l'hype di Kobe sia completamente esplosio. Vi ricordate le Black Mamba uscite a inizio gennaio o a fine dicembre che hype hanno avuto? Beh queste non saranno assolutamente da meno. Il design è molto particolare, usciranno a 180 euro in teoria l'8 febbraio quindi segnatevi la data perché non potete mancare. Per tutti i lanci trovate le raffle già aperte e le considerazioni se una scarpa ha senso comprarla. Il suo prezzo di mercato quindi a quanto rivenderla sempre nella mia community però molti di voi già lo sanno. Questa uscirà a 180 euro probabilmente il resell sarà sui 250 così per darvi un attimo un prezzo indicativo. Un'ottima scarpa ovviamente lo stock sarà abbastanza limitato ma non vedo assolutamente l'ora di metterci sopra le mani. Una scarpa rilasciata questa mattina al numero 4 è la Jordan 3 Ivory. Colorazione davvero fantastica, super super pulita. Finalmente un'altra bellissima Jordan 3. L'ultima che era uscita che a me aveva fatto impazzire è la Medellin in collaborazione con J Balvin. Quest'anno avremo la Rio sempre in collaborazione con l'artista. E poi anche una scarpa da non sottovalutare che sarà la Black Cat. Davvero tantissima roba, non vedo l'ora. Di questa voglio assolutamente portarvi un video la prossima settimana. Il retail è stato di 220 euro, un prezzo abbastanza altino comunque per una scarpa e quindi non lascia troppo margine di resell. Sempre ovviamente se non avete un brand e quindi se avete la classica paginetta Instagram, il profilo Vinted, allora sapete che comunque queste non sono scarpe che si possono rivendere quindi per farci dei soldi ma bisogna essere un minimo strutturati e è questo anche quello che insegno all'interno della mia community. Però il discorso che volevo farvi è che davvero un'ottima scarpa ci vedremo la prossima settimana ecco. Prima di entrare nella top 3 voglio assolutamente fare una menzione d'onore. Era un lancio annunciato a fine gennaio che però poi è stato posticipato al 6 febbraio, quindi fra tre giorni da quando state vedendo questo video. Sempre se lo vediate oggi stesso mentre lo registro. Però la Jordan 1 anno del drago anche questa potrebbe essere un'ottima sorpresa. Vi ricordate l'anno scorso quando è uscita la Dunk Low anno del coniglio? Beh sapete che Nike comunque ogni anno tende a far uscire una scarpa ispirata al capodanno cinese, al nuovo anno. Usciranno due Jordan 1 però quella di cui io vorrei parlare un attimo di più è nella versione da uomo. I prezzi di resell non sono assolutamente male specialmente per le taglie sotto al 40 quindi le belle size. Ci sarà molto probabilmente del margine di profitto ma anche in questo caso il maggior profitto lo avrà chi ha un brand. E il retail sarà di 160€. Al terzo posto una scarpa che non riesco a trovare in pre-release, cioè in realtà ne ho trovata una un mese fa ma che adesso è praticamente scomparsa da qualsiasi radar. È la Jordan 1 in collaborazione con Trophy Room. Design davvero super interessante, ci sono tantissime voci intorno a questa collaborazione di tutte le paia back dorate eccetera. Però la trovo un'ottima scarpa, alterna questo materiale dietro che mi sembra in swede a un satin quindi come quello delle bread rilasciate a novembre. In tanti se le ricorderanno però dei dettagli come il logo di Trophy Room oppure la firma di Michael Jordan che rendono una scarpa super appetibile a tutti gli occhi degli appassionati. Colorazione fantastica, non vedo l'ora che esca. In qualsiasi caso se non dovessi uscire su sneakers uscirà su Trophy Room e quindi servirà un reshipper. Praticamente sicuramente ve la porterò. Vi ricordate che Klott questa estate ha rilasciato l'ultima Dunk in collaborazione con Nike dicendo appunto che non avrebbe più collaborato con questo brand e che sarebbe passato ad Adidas. Beh attenzione perché questa partnership e soprattutto questi lanci potrebbero già essere rilasciati durante il corso di questo febbraio. Si diceva di una data il 3 quindi che sarebbe oggi però non è stato così, non sarà così. Per qualsiasi aggiornamento sicuramente vi avviserò però abbiamo visto con il passare del tempo tantissime scarpe, tantissimi design tra samba eccetera. Si dice che non ci sarà solo un drop di sneakers ma anche di tutta una linea di abbigliamento che non vedo l'ora di vedere e soprattutto di vedere i prezzi. Se non sono troppo alti potrebbe essere un lancio molto molto interessante. Al primo posto ragazzi nemmeno a dirla la Jordan 4 Bread nella versione Remagin. Scarpe che uscirà ufficialmente il 17 febbraio ma tutti, letteralmente tutti parlano di uno shock drop che avverrà durante il corso della prossima settimana. Tutti ne parlano, nessuno che dà una data precisa di questo shock drop. Lo capisco perché sono i lanci praticamente a sorpresa quindi non annunciati e di fatti in questi casi la qualità delle informazioni ad esempio che rilascio nella mia community. Quindi appena vediamo che Nike le mette online a noi ci arriva subito una notifica quindi lo riusciamo a sapere prima di tutti praticamente. E di fatti la qualità in questi casi di avere un gruppo come il mio è assolutamente fondamentale. Detto questo lo stock caricato su sneakers è di circa 43.000 paia che verranno distribuite tra questo shock drop, degli accessi esclusivi che penso che verranno rilasciati verso il 15 e anche il lancio ufficiale il 17. Una scarpa molto molto discussa in total leather, non voglio mostrarvela troppo, cioè non voglio farvi un unboxing dal momento che prossima settimana uscirà un video dedicato con una bella spiegazione anche un po' la storia della colorazione bread e quindi non mancate attivando la campanellina e iscrivendovi. Sono già state caricate nell'applicazione sneakers di Nike quindi è ufficiale il lancio il 17 febbraio, il prezzo sarà di 210 euro, qui c'è tantissimo margine di profitto e se sei un appassionato non perderti questo lancio. In community ci sono tutte le raffle, la strategia e quindi non verranno rilasciate solo da Nike, sicuramente su Snipes ma anche su Solebox verranno rilasciate ma anche su tantissimi altri siti Shopify. Quindi se stai cercando una Jordan 4 senza pagarla tantissimo a resell sapete che potrebbe essere il momento giusto. Le versioni saranno per tutta la famiglia quindi sarà full family size, ci saranno le taglie PS, GS e anche quelle normali e addirittura le TD quindi praticamente di questa scarpa avremo dalla taglia 17 fino alla 52 e mezzo. E che dire ragazzi tenetevi pronti assolutamente non perdetevi il video di prossima settimana. Dito questo ragazzi io vi ringrazio di cuore per aver visto questo video fino alla fine, noi ci vediamo domani con il classico Caffè Hype. Se Dio ce la manda buona perché non si sa mai tutti gli imprevisti che ci possono essere, infatti l'episodio di Caffè Hype della scorsa settimana è uscito martedì. E abbiamo tantissime notizie interessanti di cui parlare tra le quali le Jordan 1 Black Toe che è stato rimosso il Wing logo proprio perché nella prima versione c'era scritto Air Jordan. E oltre a questo anche una nuova colorazione di Travis Scott. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio, qui trovate la recensione delle Dunk Low SB Curl Purple. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.